Il calvario è finito per la spalla del tecnico Leonardo Semplici e la squadra ferrarese potrà far ritorno nel catino dello stadio Paolo Mazza dopo il dissequestro. Il match di esordio è pronto e servito. Domenica alle 20.45 gli emiliani ospiteranno la Ferral Pissalò nel terzo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia Team. Un precampionato condotto con un buon trend secondo il difensore Tiago Conec, viatico per la nuova stagione di Serie A. Ho iniziato a valere i punti, a fare sul serio e cerchiamo di arrivare a Coppa Italia a un buon livello di preparazione, tattica, tecnica per poi anche in campionato fare il meglio possibile. Al tuo punto di vista come ti senti fisicamente? Sei già pronto o hai ancora bisogno di qualche giorno in più di lavoro? Sì, sono abbastanza stanco, come ho detto ho fatto la terza partita a 90 minuti una settimana, però penso che arriverò al miglior modo possibile già al campionato e poi gara dopo gara prendi anche la forma migliore. Grazie. Grazie.